Sì, ho fatto un'interrogazione urgente, un question time che sarà discusso martedì in Consiglio regionale perché è francamente impossibile immaginare che si facciano i lavori su grandi arterie di comunicazione che sono legate anche al turismo durante il periodo estivo. I lavori che si stanno facendo sulla Fano Grosseto, farà Fossombrone il Furlo ed anche i lavori sulla verifica statica del ponte sul fiume Metauro sulla Statale 16 alle porte di Fano ovviamente sono un problema non solo per i cittadini che si muovono dalla costa all'entroterra e da nord a sud ogni giorno ma sono un problema soprattutto nel fine settimana. Ovviamente questo è inaccettabile a mio avviso, peraltro ci sono stati oltre 80 giorni di lockdown questi lavori probabilmente si potevano fare nel periodo di chiusura quando tutti i cittadini erano a casa. Ecco, oggi noi viviamo una situazione particolarmente complessa dopo il periodo di lockdown il settore del turismo sta facendo ogni possibile sforzo per ripartire anche con il sostegno della regione ed ovviamente non possiamo immaginare che questi lavori creino dei disagi. Peraltro per i cittadini che vengono prevalentemente dall'Umbria, Fano, Torrete e Marotta si rischia di farli passare sulla quadrilatero, fargli percorrere la quadrilatero e quindi arrivare direttamente a Civitanova e quindi portare fuori zona completamente i cittadini, i turisti Umbri. Quindi ovviamente l'interrogazione ha come scopo quello di sospendere i lavori o quantomeno lasciare le corsie libere nel fine settimana sia per quello che riguarda il ponte sul fiume Metauro che sulla Fano Grosseto. Ovviamente è una scelta importante, dipende dall'ANAS, non dipende dalla regione ma la regione su ANAS ha ovviamente una capacità di incidere importante.